La Fondazione Bruno Kevde si apre, diventa un luogo in cui l'open innovation non è solo scritta, ma è fatta. Credo che rappresenti una nuova grande opportunità per il territorio e per la sua crescita. Noi facciamo ricerca, siamo famosi a livello internazionale nell'ambiente scientifico, ma l'impatto non deve limitarsi a quello dell'ambiente scientifico, deve anche andare sul mercato, sulla società. Per questo una caratteristica nostra fondamentale è proprio stabilire queste relazioni con le aziende, con le istituzioni pubbliche, in modo da lavorare assieme. Lo faremo attraverso tre livelli, degli spazi di co-working dove le persone potranno lavorare insieme. Lo faremo con dei laboratori di cooperazione in cui ricercatori e persone di azienda svilupperanno progetti di giorno in giorno e ospetteremo le aziende. Credo che si possa instaurare un ciclo virtuoso fra chi spinge sulle tecnologie più avanzate, sui problemi di ricerca, e chi invece ha il problema di fare dei servizi e dei prodotti che devono andare sul mercato. Noi capiamo meglio le esigenze del mercato e l'azienda può arrivare più velocemente a introdurre le innovazioni nel loro ciclo di prodotto. L'integrazione di competenze e di domini molto diversi ci ha portato a guardare fuori dal nostro perimetro aziendale e in maniera quasi naturale abbiamo identificato in FBK un partner che poteva portare grande valore proprio in termini di nuove competenze, nuovi domini, nuova conoscenza. La nostra collaborazione con FBK è una collaborazione che nasce da lontano, abbiamo fatto molti progetti europei insieme. Oggi ci sta concentrando sul tema delle Digital Cities, dove in particolare stiamo provando a mettere in piedi un nuovo modello di integrazione dei dati di tutti i fornitori di servizi a livello del territorio e a avere una sperimentazione che impatti sul territorio trentino. Il tipo di vita che facciamo qui in questo centro è non solo la vita académica, ma anche spendi parte della vita lavorando con le compagnie, facendo un progetto con loro, e questo è molto importante quando finisci il Ph.D. Quindi il tipo di esito che puoi avere dal Ph.D. è magari più diverso che il tipo di cose che puoi avere in una università tradizionale. Credo che questa sia la cosa migliore che si possa fare, perché diamo l'opportunità ai ragazzi di avere esperienze professionali di grande livello e poi io mi auguro che molti di loro possano trovare esperienze professionali anche in altre aziende, in altri enti di ricerca, oltre naturalmente per alcuni la possibilità di restare con noi.